Siamo dei guardiani che siamo stati messi all'interno di questa torre che potete vedere qui in alto a sinistra Il nostro lavoro è quello di sorvegliare questa foresta a quanto pare E c'è qualcosa di strano, la cosa di strano è... non ne ho la più pallida idea Oh comunque se mi vedete è illuminato bene finalmente, è solo grazie del gatto che mi ha mandato le loro key light Se volete darci un occhio trovate il link in descrizione, guarda come sono illuminato bene Quello che sto per raccontarti è successo quando avevo 24 anni Mi chiamo Jack Nelson, avevo un piccolo lavoro come park ranger, ok si chiama park ranger a quanto pare Il guardiano di un parco in un parco statale Era uno di quelli che controllava tipo il fuoco se ci fossero problemi col fuoco In una larga foresta del nord west pacific Ok, questa volta ero stato trasferito da un posto all'altro perché c'è stata qualche circostanza Ho dato un po' di addi e alla fine sono andato alla nuova location e ho guidato due ore Was to drive, posso andare pure a sinistra? Ok, perfetto, magari andiamo dritti eh Questo gioco è caratterizzato dal fatto che ci sono dei messaggi nel telefono Congratulazioni per il trasferimento, ti senti pronto per questo cambiamento Ti scrivo per dirti che sei stato assegnato alla torre 11 Benvenuto a bordo, io sono Mitch da Iron Bark Cos'è che vuole Kyla? Mi ricordo che passando per Rosberg c'è un dinner, un dinner caffè Hanno i migliori burger in città, devi proprio provarli Dovrei proprio avere un buon pasto prima che inizi il mio servizio Grazie Ky, perfetto Ah, ho visto il dinner di cui parlava Kyla Eh vabbè, tocca fermarsi Mi parcheggio qua, guarda che bello spazio Oh, fanculo parcheggiare vicino, meglio parcheggiare Il van non ha dei buoni freni Io ho frenato, giuro che ho frenato Queste cose con la mia macchina non le faccio Sono un nuovo staff ad Iron Bark Hai sentito le news? Quali news? Qualche settimana fa tre bambini sono stati dispersi nel parco Questo è tutto quello che dicono i notiziari, nessuno lo sa C'è qualcosa che vive nella foresta Benvenuto a Twin River Dinner Sentiti libero di sederti dove vuoi e arriverò da te Per favore lasciami stare Ma guarda che faccia c'hai, ti devo lasciare stare? Ti lascio stare? Ovvio che sì Com'è il cibo? Mi guarda in faccia Perfetto, abbiamo beccato quello speciale Buongiorno, sono Barbara, sei pronto per ordinare? Sì, cosa vuoi? Oh, cheeseburger con patatine Grilled cheese sandwich with onion rings Meatball sub with chicken nuggets Raga, chicken nuggets Non c'è nemmeno da parlare Ti porto il cibo non appena è pronto Fammi sapere se ti serve altro Ho sempre questa abitudine di pisciare prima di mangiare Ice pizza boy Grazie Abbiamo sto cheeseburger Molto buono signora Il conto, grazie Allora, devo pagare 6 dollari 6 dollari e 15 centesimi di mancia O 6 dollari e 50 centesimi Faccio 15%, dai Va bene, si va Sono le 8.02 di pomeriggio Porca puttana, che brutta idea fare sto gioco Uscirò fuori dal mio camper Porca troia, ragazzi Oh, cazzo Questi sono i tre bambini scomparsi È il cazzo di sceriffo Ma sei, ma sei scemo Ma perché mi devi apparire in questo modo? Sono il nuovo Fire Lookout Transferred È vero Non sapevo che stavamo assumendo questa stagione Ok pal, you are good to go You are stuffed at Fire Tower Ok, siamo alla torre 11 Mi dispiace per la confusione E sapevo che quella torre sarebbe lasciata senza staff per questa stagione Un piccolo avvertimento Non addentrarti oltre un miglio a nord della tua torre Boschi pericolosi da quella parte Le linci e gli orsi Sono le 11.32 di sera Ma perché non potevo andarci di pomeriggio? La torre è più vicina alla numero 11 E penso sia quella là sotto Ho salito le scale al più in cima alla torre Che paura Cosa ho fatto? Sarà una luce? Devo attivare il generatore Ma mi cago addosso Tutti i guardiani devono seguire queste regole Quando occupano questa torre E lights out after 12 pm Quindi devo spegnere le luci dopo le 12 La password del sistema è Iron Bark Tower number Quindi sarà Iron Bark 11 Ricarica il generatore ogni giorno No videogames nel computer E ricorda di chiamare la tua stazione sorella Prima di andare a dormire Allora Devo accedere al sistema Ciao sono Smiley Il tuo assistente virtuale Sono qui per aiutarti col computer No ma è incredibile questa cosa Questa è la mappa dell'Iron Bark Sto gioco è incredibile Cos'è plug.exe? Ragazzi pazzesco C'era scritto niente ai videogiochi Exploit training Grazie Ma è bellissimo Si può andare a nanna Non devo fare altro Ok abbiamo acceso tutto È bello vedere la torre 11 di nuovo viva Hai già fatto il tuo report prima di andare a dormire? Sì l'ho fatto e come Buonanotte Connor Ci sentiamo domani Finalmente si va a nanna God ooo E ci si sveglia l'indomani mattina No ci si sveglia alle tre e mezza di notte Unintelligible , hello Devo pisciare Tre e mezza a pisciare no non è possibile Ma posso pisciare qua? Vabbè perfetto Piscio da qua non scendo Vabbè ho perso la torcia Vado a dormire basta Buongiorno Oddio che bello però Ciao sono Connor dalla 12 Mi senti Ok ci sono dei campeggiatori Mi sa Si vede come il fuoco Il fuoco è bianco Quindi è un campfire Ok mi sa che c'è della gente non autorizzata E il rischio fuoco è alto in questo periodo Credo per il vento Vuoi andare a controllare? È sicuro? Prendi il tuo spray per orsi Prendi il tuo spray per orsi Che altro mi porto raga la torcia? Nel dubbio Mi porto la torcia Non si sa mai Figa quanto tardi No mica qua addosso raga Hello? Ha urlato qualcuno? The letters will be seated and moved Sono stit Oh noi tre bambini morti C'è qualche cosa nella foresta Che uccide i campeggiatori C'era scritto non camping Voi siete venuti lo stesso? Oh qua prende Madonna quanta roba mi ha mandato Innanzitutto spegniamo il fuoco Non ho visto qualcuno Me ne vado Addio Sono ancora le 9 di sera ragazzi Non ce la faccio più Ok Il momento di tornare a casa Che bello vedere che la luce è accesa Devo riportare a Connor cos'è successo Connor mi senti? Forte e chiaro Prima di tutto Che succede? Mi stai prendendo in giro? Sono stufo di questi bastardi E non ci posso credere Che succede spesso Questa è la terza volta questo mese Le persone hanno iniziato a far girare delle voci Che quest'area sia spettrale E ci siano delle entità Se li trovo personalmente farò sì che non mettano mai più piede in questa foresta Tieni mi aggiornato Lo farò fare tutta la tiritera di robe Oggi il vento è a 18 nodi Beh sempre buono Service reporting Wind speed 19 Era 18 Non so perché ho messo 19 Anche oggi sembra clear Non c'è nulla di male E la temperatura mi serve 47,3 Jack Nelson Perfetto Report submitted Uncooked pasta Marinara sauce Peperoni Mozzarella cheese Madonna Devo fare la pasta Ma porca puttana Uno vuole andare a dormire Falla a 420 gradi 35,40 minuti Pinchia 35 minuti Connor Ho reportato i loro culi alle autorità Spero possano trovarli And give them a peace of their mind Non so che modo di dire sia Torre 12 Signing off Rondora Buonanotte Perfetto Connor non so se è un grande o lo odio Ha finito Wow Lasagna Che poi non è una lasagna È tutto ciò che è sbagliato per essere una lasagna Però Ok devo andare a prendere il legno Magnifico Stufetta Fatta Buonanotte Mamma mia E guarda che Mo mi sveglia alle 3 e mezza del mattino Ovviamente mi sveglia alle 3 e mezza del mattino No ma alle 2 e 27 Peggio di peggio Cristo Dio Sono stato svegliato dalla sensazione E i miei occhi si sono aperti Tipo What the fuck No non ce la faccio raga Devo mettere pausa Come si mette pausa T'ho visto eh Mi posso nascondere C'è una presenza fuori Devo uscire fuori Si apro Lo spruzzo Pronti? Ma siamo matti No mi hanno marchiato la porta Mo mi viene l'uendigo C'ho tipo 3 giorni rimasti E mi viene ad ammazzare Connor? Connor? Hai idea di che ore siano C'è qualcosa fuori dalla mia porta? Non penso che ci siano dei bambini Che vanno in giro Questi bambini possono essere Particolarmente creativi Con questi scherzi Guardano troppi film horror E lo trovano divertente Ok Questo sembra qualcosa Tipo un rituale Ti manderò qualcuno A controllare domani Adesso chiudi la porta Prendi un respiro E prova a riposare Non possiamo fare nulla Col buio Good night Connor Che vi devo dire? Non posso andare a dormire Non posso andare a dormire Io non sarei mai andato a dormire Non ero sicuro se la scorsa notte fosse vera O solo un sogno Qualcosa di strano sta accadendo in questo bosco 8 e 34 pm Ah io sono cagatissimo addosso Hello? What was that? No io non vado a controllare Manco morto eh Allora vediamo da dove è arrivato C'è qualcuno qui? Ho bisogno di aiuto Per favore qualcuno risponda Aspetta voglio vedere da dove è arrivato Voglio vedere la mappa Aspetta Arriva da qua Da Logan Pass Trailhead Ok vediamo chi ha la radio Hello? Qualcuno mi sente? Sono Jack dalla torre 11 Oh grazie a Dio mi sono perso E sto impazzendo E non ricordo il percorso per tornare al mio furgone Ho provato a parare dei flare gun Ma per attirare l'attenzione di nessuno Ma nessuno è venuto E voglio trovare una via per andarmene Ecco quindi quelli che hanno messo il mio Cioè il fottuto scheletro fuori dalla mia porta Adesso fanno da te Brutto Eh ma lui non lo sapeva giustamente Cosa riesco a vedere? Un incrocio di sentieri Ma non ricordo se devo prendere il sentiero a destra O il sentiero a sinistra Per tornare al Trailhead Riesce ad aiutarmi? E' ansioso Vuole una risposta E aspetta Sto provando a capire Lui è arrivato a un incrocio Abbiamo detto Allora tu sei qua Left trail Ok Sinistra Molto semplice What? Ti sento Sento i tuoi fischi Non sono io No non ci posso credere No io non apro Non mi hai fatto un cazzo gioco Apro non apro Non se ne va raga Devo aprire Non ho aperto io la porta Innanzitutto Gioco di merda Stavo tentando di capire Quando aprire la porta Dovevo fare il 3 2 1 E prendermi coraggio Non si può aprire da sola la porta Cristo Dio Mi è stato chiesto Di controllarti Che succede? Stavo aiutando Un hiker che si è perso A quest'ora Che Dio Sia misericordioso Eh mi sa che lui sa qualcosa Che cosa stavi facendo Lì la scorsa notte? Lì dove? Che intendi? Nord Perché eri là? Lui È un bastardo Mi vuole uccidere Vuole ammazzarmi Questo è molto semplice Non andrei lì in giro Pal Mi è stato richiesto Di investigare In un fumo Che Dio abbia pietà Nasty business Up there pal C'è qualche business Strano lì sopra Bobcats and beers Devi stare attento pal Queste foreste non sono normali Ci sono cose là fuori Che amerebbero un pezzo di te Non a menzionare che saresti Abbastanza distante dall'aiuto Se qualsiasi cosa accadesse Ma più che altro Come facevi a sapere Che eri là? È il teschio Che Dio abbia pietà Perfetto Lui sa qualcosa Hai fatto una foto Prima di toglierlo Non ci ho pensato E non possiamo fare nulla Senza le prove Comunque Si è fatto tardi Meglio che vado Stai attento Grazie per le supplies Buonanotte Sceriffo Stia attento pure lei Si mangia Il cibo è freddo E riscaldiamo il cibo Minchia Comunque per allungare il brodo Sto gioco ti fa fare Le peggio robe E mi fa empatizzare Un botto ragazzi Cioè io sono dentro La storia In questo momento Io farei Le stesse scelte Che faccio nella vita reale Tranne quelle obbligatorie La sagna Minchia Questo sono io Comunque Che pur di non sporcare Un piatto Ma devo fare il report Della notte Allora 54,8 54,8 Poi Andiamo a vedere Il vento Ormai Ragazzi Sono diventato bravissimo Potrei farlo davvero Sto lavoro Minchia 26 stanotte E' abbastanza ventuccio Stanotte Già E' abbastanza windy Ho aiutato una persona Direi top Dobbiamo andare a prendere la legna Ma il pisciarolo Alla fine serve a qualcosa Pisciarolo A parte che Ormai ho capito Che quando Dobbiamo Insomma Ma chi è sto Coglione di merda Dio Sono saltato ragazzi Mi fa male il cuore Mi fa male il cuore C'ho un infarto Capisco la solitudine Possa fare scherzi mentali Chi sei? Non essere preoccupato Sono un lavoratore Stavo facendo un po' di Mantenimento di routine Alla stazione radio Lì sotto Dobbiamo stare sicuri Che i messaggi giusti Raggiungano i posti giusti Sono alti questa stagione Assolutamente Ma alcuni fuochi Sono fatti per bruciare Nessuna prevenzione Può fermarli Cosa intendi? La natura ha il suo piano Alcune cose Non possono essere controllate Non importa quanto forte Ci proviamo Minchia E qualche volta I disastri Sono un modo per la terra Di purificare se stessa Ti auguro una buonanotte Jack Spero dormirai bene Ma ricorda La curiosità può portarti in posti Dove è meglio non andare Ma io ti tiro la legna Porca puttana Ma guardala come si allontana Il buio Perché non ho una pistola? Vuoi vedere che è lui Quello là che mi ha messo il teschio Vuoi vedere che è lui Quello che mi ha rubato la torcia Vuoi vedere che è proprio lui Il problema di sto posto? Fuoco acceso E buonanotte Vedo il fumo arrivare dalla tua torre Prego dimmi che non sei lì dentro Dove sei stato? Sono stato a prendere il fuoco Non ci metti anni per prendere il fuoco Ho incontrato un tizio che lavorava per la radio Chi ha incontrato? Il ragazzo che lavorava per la stazione radio Quella torre radio è stata fuori servizio per ere Perfetto È stata chiusa anni fa Dopo che un fulmine ha fritto il sistema E la riparazione era troppo costosa La sua data di riparazione è stata apposticipata Al prossimo big funding Cioè quando ci danno un finanziamento Non arriverà a breve secondo Itch Quindi con chi ho parlato? Se quello che stai dicendo è vero Hai parlato con uno di quei goons Con uno di quegli idioti Che ti stanno facendo i prank Sapeva il mio nome? Come sapeva il tuo nome? Pensi che stia ascoltando? Possibilmente La prossima volta che lo vedi Prendi le sue informazioni O fagli una foto Dobbiamo capire chi è Buonanotte bello Si va nanna finalmente Mentecristo Dio Due notti dopo Mi è saltata la luce Porca puttana ragazzi Ok Devo pisciare prima di tornare dentro E pisciamo Pipi Che succede? Una settimana dopo Cioè io ho fatto tutto sto casino E dovevo solo Mettere la benzina nel fottuto generatore Jack svegliati E vedo un altro Fumo Minchia ancora i campeggiatori Se non scappano via questa volta Fagli una foto E prendi le loro carte identità E se questa cosa Peggiora Non esitare a chiamare L'headquarter Per aiuto Binoculus Mi sto premettere a piangere Non so perché mi sto premettere a piangere Non so se riesco a continuare questa cosa ragazzi Mi è scesa la lacrima di paura Non so Credo che cosa Credo che non riesco a parlare Mi sto cagando troppo addosso ragazzi Io vivo da solo Non le posso fare questi giochi Dov'è la macchina fotografica? Che gli devo fare la foto? È qui? No non è qui Devo chiamare l'headquarter bro Sono troppo in tensione ragazzi Accendo la radio Ora sto meglio Lui ha detto che devo chiamare il quartier generale Regà a parte che non so dove ho messo il binocolo Qua Se non posso scendere giù E non mi fa interagire con ste cose Cosa devo fare? Qua mi fa fare la foto E vabbè Allora facciamo una foto a loro E fatta la foto a loro Chiamiamole 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 Jeet Se ne è andato? Scappo giù È? Condio 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 Ragazzi Condio 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 Dire Condio C'ho i vermi Scappo dritto non me ne fotte un cazzo Porca troia Io corro Io corro Non me ne fotte un cazzo ce l'ho dietro vero Ok Dove cazzo è il furgo Porca troia ragazzi Dio Dio mio Dio mio Dio mio Non mi si apre Non mi si apre Non mi si apre Parti 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 No no Durante il colpo di adrenalina Ho schiacciato il gas E guidato fino alla ranger cabin Alla cabina del ranger più vicino Senza fiato Ho allertato l'headquarter Guarda Jack Abbiamo preso questi pazzi Ha risposto Mitch La mattina dopo le autorità Hanno iniziato una piccola investigazione nell'aria Ma ovviamente Non hanno trovato segni di cattiva condotta Tipo Nessuno ha creduto alla mia storia Facendo finta fosse un caso isolato Comunque questa era l'ultima volta Che ho messo i miei piedi in quella foresta Il disagio ancora sta bello pesante nel mio stomaco Comunque sono passati molti anni E l'esperienza è ancora vivida nella mia memoria La famiglia dice Ho finto tutta questa roba Ma io so cosa ho visto Vero o no Dopo il buio queste foreste possono diventare Penso un paradiso per le attività illegali Quindi se volete andare a fare il campeggio a breve Per favore state al sicuro Porca troia ragazzi Mamma mia Sono le 23.10 Io voglio Voglio Io adesso non Come vado a dormire adesso Io in che modo Mi corico adesso al letto Che poi io dormo Pure spalle alla porta Io dormo Faccia a muro È il primo episodio di questa serie Io già non voglio farla più Sento un peso sullo stomaco Primo episodio di Harsh reality raga Pochissimi jumpscare Ma pieni di quell'ansia totale Cioè Wow